Via San Decenzio è chiusa al traffico veicolare dal 7 ottobre scorso. Un'interruzione che sta limitando le alternative alla circolazione stradale fra centro storico, zona mare e altri quartieri cittadini procurando disagi prolungati al traffico, alle attività lavorative e ai residenti di Via Manzoni, Flacco e Giansanti. Alla base della criticità ci sono i cedimenti all'edificio del Tribunale di Pesaro bardato di transenne e ponteggi per il rischio di distaccamento di piastrelle e materiale da una parete che è divenuta ancora più pericolante sotto i colpi del maltempo. Quasi un mese dopo il problema non è in procinto di risolversi ma si sta preparando un intervento radicale come ha voluto riferire oggi l'assessore all'operatività Enzo Belloni attraverso il proprio profilo Facebook. Si sono verificate giorni scorsi delle cadute di materiale che potrebbe essere pericoloso per cose e persone dai cornicioni del Tribunale e sono intervenute le squadre del centro operativo e si sono registrate altre situazioni di possibile pericolo per questo abbiamo interpellato subito il Ministero delle Infrastrutture perché il Tribunale è un edificio la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è in carico al Ministero delle Infrastrutture domani saranno in città con la ditta che hanno incaricato per fare un intervento in sommorgenza di emergenza e quindi nel giro di qualche giorno dovrebbero ripristinare la viabilità mettendo in sicurezza il cornicione che ha registrato queste cadute però l'intervento che non è di pochi spicci dovrà essere fatto dal Ministero delle Infrastrutture che ci ha assicurato, ripeto, che lo farà nel frattempo loro hanno anche avviato le procedure di gara per riqualificare tutta la facciata che è transennata ormai da parecchio tempo per riqualificare tutta la facciata